E' come semplicità, è la cosa giusta e cosa nuova, ci sarebbe tra noi un mondo a più felicità. Se la gente usasse i cuori, si aprirebbe un orizzonte migliore, trova in differenza c'è, trova a vincerla, puoi farcela, puoi farcela. E' come se spadezzi, trova a vincerla, può venire tra noi, per noi, per noi. E a minorà, per aiutare e minorà, non sa so quale, non devi più prestare, non so se non lo sai, che è piccolo di nuova strada, non devi più prestare, 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 non Un'unità di rai, è giustà il nostro.